eravamo rimasti con questo bel libro questo volume sulla mostra che hanno fatto a montecitori della mostra fa per altra parte integrata una sezione documentaria costituita da materiale di rilevante interesse storico-artistico comprendente l'indice disegno delle aree di Anna Sobasina provenienti dagli archivi del puntecitorio ma sottolineato come questo progetto si è potuto realizzare grazie alla proficua collaborazione con i soprintendenti per i beni artistici e storici di Napoli, Roma, Firenze Milano, Moderna, Parma, Venezia e Bologna ai quali ha rivolto un vivo ringraziamento mi auguro che questa iniziativa possa essere la prima di nuova occasione in cui, senza interferire con il proprio primario compito la Camera dei Deputati sia promotrice di fatti culturali all'interno di un indirizzo politico di apertura e di rinnovato rapporto con i cittadini mi sia consentito anche di esprimere la soddisfazione per una mostra praticamente organizzata in proprio fatta in casa con il minimo dispegno economico attraverso un uso razionale delle risorse umane e organizzative dell'amministrazione della Camera a dimostrazione che anche in momenti di rigore economico è possibile offrire alla cittadinanza un'occasione preziosa e comunque dovuta certo tutto questo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e l'entusiasta adesione del personale tutto dalla Camera dei Deputati che ha contribuito a superare gli innumerevoli problemi logistici organizzativi, di sicurezza e di custodia delle opere adesso va il ringraziamento del Collegio dei Questori e il mio particolare e quindi